Raffaella Romagnolo, buonasera. Buonasera a voi tutti gli ascoltatori, le ascoltatrici. E benvenuta, anzi bentornata qui nel nostro piccolo posto delle parole. Ce l'avevamo trovati per raccontare destino e poi per raccontare di luce propria, se non ricordo male. Vero, vero, ricordo. E adesso insieme con Raffaella Romagnolo andiamo a raccontare una storia di alberi, ma non solo. Una storia di alberi, di un albero. Ed è la storia anche molto umana di una ragazza, ma non solo. Raffaella Romagnolo, con il libro Il cedro del Libano, fa parte del Bosco degli scrittori. Il Bosco degli scrittori è una collana editoriale di aboca ed è molto singolare questa presenza narrativa. Tra l'altro ricordo che al salone del libro il Bosco degli scrittori sarà nuovamente presente in una forma diversa rispetto all'anno scorso e sarà ancora una volta un punto di attenzione molto, molto importante. Ci sarà la presentazione del suo libro, Raffaella Romagnolo? Sì, è previsto il venerdì, quindi venerdì 19 maggio, alle due e mezza, in questo stand di aboca veramente rimarchevole, pazzesco, con tutti questi alberi, che poi dopo la loro vita al salone, quindi la ricreazione di un bosco all'interno, di una struttura che del bosco annulla, altrimenti poi verranno comunque, a quanto capito, rimessi in natura, insomma, e quindi contribuiranno al nostro benessere collettivo. Prima al salone mostrandoci questa cosa bellissima e poi dopo, ecco. Eh sì, perché continuerà ovviamente la vita di questi alberi che compongono una foresta veramente da vivere. Non potete non passare all'Oval, lo stand di aboca, non potete non passare e vivere qualche momento insieme con... Nella natura. Nella natura, nei libri, perché i libri fanno parte della natura, chiaramente sono di carta, e dall'albero che ci piacciono arrivano, ma adesso andiamo a raccontare insieme con Raffaella Romagnolo questa storia. Cominciamo dall'immagine di copertina. Sì, le immagini di copertina di questa collana sono, a mio parere, straordinarie tutte, perché in evidenza abbiamo naturalmente la specie vegetale che è stata affidata allo scrittore. Prima lei citava Mauro Garofalo e la sua quercia, ogni scrittore chiamato a contribuire a questa collana riceve in dote una specie vegetale, un albero. E questo albero campeggia e domina la copertina. Però se si fa attenzione, se si guarda bene, ai piedi di quest'albero ci sono sempre nei libri di questa collana degli uomini, dei piccoli umani, ed è quindi già una copertina che racconta qualcosa dell'umano, paragonandolo, mettendolo accanto alla grande vita rappresentata dal mondo vegetale, che ci circonda, verso cui siamo, come dicono gli scienziati, ciechi, quella che chiamano plant blindness, noi non sappiamo guardare, riconoscere gli alberi perché evolutivamente non avevamo bisogno di imparare questo, mentre avevamo molto bisogno di guardare ciò che si muoveva, perché poteva essere pericoloso per noi, ma la realtà è che la vita vegetale è la vita su questo pianeta. Noi siamo solo una piccola, piccola, piccolissima frazione della vita su questo pianeta. Raffaella Romagnolo, in esergo troviamo una frase di Patricia Westerford, però prima ancora vorrei andare a questa dedica, a Richard Powers, per aver indicato la strada. Richard Powers è uno scrittore statunitense, Il sussurro del mondo, l'abbiamo letto in molti, un libro straordinario, ma non solo questo, se ricordo bene anche Smarrimento. Che strada le ha indicato Richard Powers? Ma soprattutto con Il sussurro del mondo, devo dire che è il libro con cui io l'ho scoperto, che è stato anche premio Pulitzer, che è un libro straordinario dal punto di vista della cecità umana nei confronti del mondo vegetale, perché Powers in realtà racconta la nostra società contemporanea a partire proprio dal legame tra umani e alberi. Quindi in questo senso ha indicato la strada. E io nel piccolo di questo libro Avoca, che è anche un libro piccolo come dimensione, mi sentivo, come dire, risuonare le parole di Powers in modo in cui lui ha affrontato questo che per noi oggi è un problema da affrontare, perché è il problema della relazione con l'altro da noi e con la natura nel suo complesso. Quindi Il sussurro del mondo è un libro veramente straordinario. Tra l'altro il titolo originale, questo è il titolo che ha dato l'editore italiano, il titolo originale è The Overstory, quindi la storia oltre, ma oltre che cosa, oltre gli umani, la storia tutta, la storia che viene dopo, che viene intorno a quello che noi pensiamo sia la storia. Allora, in questo senso ho voluto proprio nel mio piccolo omaggiare questa grande opera che davvero ha illuminato la strada a me, ma non solo a me. In realtà, insomma, se si legge con attenzione questo libro, penso che possa risultare di stimolo e di incoraggiamento a tanti che provano a trovare una strada in quella che è la narrativa ambientale, insomma, cioè la narrativa che prova a misurarsi col problema che stiamo vivendo, col problema dei problemi, che è il riscaldamento globale. Miliardi di anni fa, un'unica cellula casuale in grado di riprodursi da sola, ha imparato a trasformare una sterile palla di gas tossico e di scorie vulcaniche in questo giardino abitato e tutto quello che sperate, temete, amate è diventato possibile. Dal sussurro del mondo a Patricia Westerford c'è una linea che continua. Eh, certo, anche perché Patricia Westerford è un personaggio del sussurro del mondo. Fatti, la pianta. Esattamente, di conseguenza, però per me è un personaggio talmente riuscito che io ho pensato, come posso dire, di omaggiarla come si fa con autori viventi e quindi l'ho messa in esergo per questo. Ed è questa una piccola frase che riassume con grande efficacia quello che è la fotosintesi per noi, che non è solo un, come dire, un capitoletto nel libro di scienze della scuola media. Ecco, è la base della nostra vita e quindi di tutto ciò, come dice giustamente, questo personaggio che speriamo, che vogliamo, che amiamo, insomma, ecco. Leggendo questo libro di Raffaello Romagnolo, Il centro del Libano, poi andremo a scoprire la storia, racconta l'inizio delle stagioni, delle stagioni che avanzano, dell'equinozio e così via, della pioggia, della neve, quando invece la pioggia e la neve sono mancanti. Ora, anche questo è un modo per entrare in questo sussurro del mondo che dobbiamo sentire. Il mondo ci parla, la natura ci dice qualcosa, ma noi forse non siamo ancora lì ad ascoltare nel vero senso della parola. Sì, sentiamo delle notizie, ma non le sappiamo ancora rendere nostre. Ecco, quando lei scrive nevi che la neve non se ne va, quando invece la neve manca. E non è per essere romantici a dire che la neve manca, ma perché bisogna saper guardare, lo dico in maniera biblica, con cuore intelligente, le cose, anche la neve che diventa bianca, che arriva bianca e poi diventa sporca. E quella neve sporca è acqua per la prossima stagione e per i prossimi anni. Sì, è molto vero. Noi oltre che ciechi, per continuare la sua metafora, siamo anche sordi al sussurro del mondo. Oltre che ciechi nei confronti del mondo vegetale abbiamo questo problema. Io credo che qui la letteratura possa fare la sua parte, però anzi, di più, debba fare la sua parte. C'è un libro bellissimo uscito qualche anno fa, tra l'altro era stato presentato, se non ricordo male, anche al Salone di Amitab Ghosh, la grande città, che bacchetta un po' gli scrittori. Dice, dovete parlare di questo, i suoi colleghi, dovete parlare di questo e questo che sta succedendo. Dovete trovare un modo nuovo per parlare di questa cosa nuova che ci sta succedendo. E io ci credo molto nel fatto che la letteratura possa effettivamente aiutarci, aiutare noi umani a prendere consapevolezza intimamente, profondamente di quello che sta succedendo e non solo ad archiviare le notizie sul cambiamento climatico nel grande flusso di notizie che ci inonda ogni giorno, per cui tutto è grave, allora se tutto è grave niente è grave. Questo senso può, perché la vocazione della letteratura è andare a fondo, è illuminare ciò che è opaco. E che consapevolezza ha, adesso entriamo nella storia, questa ragazza che inventa qualche cosa per sottrarsi la sua famiglia, raggiungere Mayer. Mayer è il nome dell'amore e la voce di Mayer a un certo punto del romanzo dice è miele di melata. E allora questa ragazza protagonista, ma non solo, comincia un viaggio, comincia ad attraversare boschi, pianure per arrivare alla montagna e attraversa una foresta di cedri ed è qui che il cedro del Libano comincia a essere protagonista. Allora, faccio solo una piccola premessa. In realtà, come dire, il cedro del Libano è l'eroe eponimo della storia. Questo è un piccolo libro di racconti, in realtà, apparentemente, ma questi racconti... Sono quattro racconti. Quattro racconti, sono però all'interno di una sorta di racconto cornice e questo racconto cornice prova a seguire quella che è la vita di un cedro, cedro del Libano, intendo, è albero che può avere vita millenaria. Quindi i cedri abitano il tempo in modo molto diverso dagli umani, insomma. Quindi provare a seguire la vita intera di un cedro significa all'interno poter inserire le storie di umani che sono in realtà molto lontani nel tempo. Sotto la grande chioma di un cedro stanno effettivamente umani che appartengono a ere completamente diverse. La prima che incontriamo, la prima di questi umani che incontriamo, è una ragazza che vive in un tempo per noi veramente lontanissimo, perché parliamo di centinaia di anni prima di Cristo. Un tempo che non è ancora diventato completamente monoteista, per dare un'idea. Insomma, quindi che ha una sensazione del divino più fluida. Dove la pianta è espressione della divinità, diversamente dagli altri racconti che lei ci presenta. La natura, diciamo, la natura stessa è animata da forze o che la mia protagonista sente. E questa è la partenza in qualche modo. Di sicuro il suo è un viaggio, è una fuga. Lei scappa da una famiglia che vuole ingabbiarle in un ruolo che lei non sente di poter interpretare. È una fuga, ma è una fuga nella natura. Quindi è una cosa che a noi pare avventurosissima, perché gli uomini del presente e gli umani del presente non sono così avvezzi, se non nei casi specialissimi dei grandi esploratori che ancora fanno cose passi. Ma sono casi molto particolari. Invece lo stare così a contatto nella natura, pensare che la propria strada è quella di avventurarsi nel bosco e andare, è una cosa che in qualche modo è bello provare a esplorare anche per noi attraverso naturalmente la letteratura, quindi avvicinandosi in quel modo. Avvicinandosi in quel modo sempre in un tempo, in questi quattro momenti di narrazione, in un tempo che è sempre sospeso. In questo tempo sospeso siamo come protagonisti, insieme con quelli che stiamo conoscendo in questa breve conversazione, siamo sotto le fronde di questo cedro, perché le fronde di questo cedro sono molto importanti. Abbiamo detto all'inizio di questa conversazione la presenza biblica del cedro. Certo. La pianta più citata dalla Bibbia. È la pianta più citata dalla Bibbia, il famoso cedro del Libano, che non è solamente in Libano, ma la troviamo anche a Barolo, in provincia di Cuneo, esattamente nelle Langhe. Uno dei racconti è ambientato nelle Langhe. Uno di questi racconti è ambientato nelle Langhe, ma ha anche una sua aderenza storica a questo racconto. Sì, questo è il terzo racconto della raccolta e lo spunto è venuto da un fatto effettivamente accaduto. Chi ha consuetudine con le Langhe sa che a un certo punto è possibile vedere, salendo verso Barolo, quindi da Alba verso Barolo, questo cedro monumentale gigantesco, che è proprio identificativo di un territorio. È posizionato nel territorio del comune di Lamorra, al centro di una tenuta, ed è collegato a una storia d'amore. Pare che sia stato piantato in occasione di nozze dei proprietari di questa tenuta, ma siamo alla metà dell'Ottocento. Nelle Langhe e anche in Monferrato, quindi in queste parti del Piemonte, c'era la consuetudine di segnare il colmo dei poderi a vite, dei poderi vitati, che sono un po' tutti uguali a vederli, segnare il colmo con degli alberi facili da identificare. Tipicamente anche i cipressi, sono ancora presenti, se uno fa un giro vede che ci sono, erano identificativi, in modo in quel mare di colline un po' tutte simili, dire sì, quella è la mia proprietà, quello è il posto. È molto particolare che venga scelto come segnale, per indicare la proprietà, invece un albero completamente diverso, che è il cedro del Libano, quindi un albero che arriva a carico di tutte le storie che gli umani hanno sempre raccontato su di lui, come quelle della Bibbia. Poi era l'albero con cui è stato realizzato il Tempio di Re Salomone, con la resina del cedro del Libano si producevano sostanze che servivano per accompagnare le anime nell'aldilà della mummificazione egiziana, era il legno usato dai fenici per solcare le acque del Mediterraneo, cioè una pianta carica di tutto questo che viene scelta come pegno d'amore, per segnare proprio il giorno del matrimonio di questi due giovani sposi, il loro sogno d'amore, ma anche la loro vicinanza, la loro volontà di rimanere attaccati a questa terra che darà poi i suoi frutti. Questo cedro del Libano, un maledetto albero, si vedeva dappertutto, maledetto, ecco, è quest'albero che è protagonista anche lì c'è una protagonista femminile che in realtà nel momento in cui io la racconto è ossessionata da quest'albero. E non poco ossessionata, ma andiamo a trovare un altro protagonista, questa volta è un professore, un professore e qui andiamo nella storia d'Europa. Giorgio Santi, chi è? Giorgio Santi è un personaggio effettivamente esistito, era il responsabile dell'orto botanico di Pisa durante la seconda metà del Settecento, diciamo, quando la Toscana era governata dal granduca Pietro Leopoldo. E Giorgio Santi ne era il prefetto. Era il responsabile, era il direttore, diremmo con parola comune, insomma, dell'orto botanico. Esatto. Ed è un personaggio molto particolare che vive in pratica gli ultimi anni dell'anzian regime. In realtà nella sua vita vera arriva fino a vedere la rivoluzione francese, il Napoleone, oltre, quindi tutti i rivolgimenti della storia. Io l'ho inserito all'interno della mia raccolta di racconti perché fu responsabile dell'arrivo in Italia e del primo esemplare di Cedro del Libano. E siccome lui personalmente ha però una storia veramente avventurosa, degna di un romanzo intero, non solo di un racconto, ho pensato che almeno un pezzettino in un libro tutto dedicato al Cedro del Libano se lo meritava, diciamo così. Insomma, lui ha avuto una vita veramente incredibile perché parte, è nobile, parte da un paesino della Toscana, è molto dotato nello studio, viene mandato a Parigi per frequentare, diciamo, gli intellettuali più avanzati dell'epoca, la voasie, chimici, botanici. E poi, insomma, sarebbe molto contento di rimanere a Parigi a fare questa bella vita, tra l'altro gli propongono anche di avere una posizione da diplomatico, ma è costretto in qualche modo a tornare a Pisa. Ma poi, insomma, se uno poi legge si accorge che è una costrizione fortunata. Altro che se fortunata è molto bello il momento in cui Giorgio Santi poi è a contatto con questi giovani studenti e aprono la cassa di queste piante che arrivano da molto lontano. Dall'Inghilterra. Dall'Inghilterra, esatto. E la cassa, la prima cassa, dalla prima cassa esce una piccola pianta di ginkgo biloba, una cassa, una pianta più o meno di un metro, quella che ha le foglie così belle a forma di cuore. E poi dopo un'altra pianta e allora cresce l'attesa e dice sappiate che questa pianta è molto particolare, non dovete lasciarvi ingannare perché questa pianta ce l'abbiamo solamente noi e non ce l'ha nemmeno l'orto botanico di Padova che è tra l'altro l'orto botanico più antico d'Europa. Esatto, riconosciuto come il principale, insomma, però oggi dice questa ce l'abbiamo solo noi. Questa ce l'abbiamo solo noi. il primo arrivò a Pisa. Eh sì, e loro, gli studenti la guardavano, toccavano i ciuffetti di aghi e dice no, sembrava una pianta normale e invece la normalità nascondeva una storia straordinaria ovvero quella del cedro del Libano e in questo nostro camminare perché questo questo libro il cedro del Libano ci propone un cammino tra le parole, tra le storie in questo tempo sospeso andiamo a conoscere l'ultima, l'ultima scrittura dove troviamo il capitano Niemann, Naiman. Esatto, allora pensiamo sempre al nostro cedro del Libano millenario, anzi, secondo alcuni studiosi più che millenario. Esatto, mi piaceva concludere questo giro nelle vite degli umani sotto le fronde di quest'unico cedro diciamo così che accompagna tutti spingendo lo sguardo più avanti dopo aver visto un po' di cose nel passato ho provato a spingere lo sguardo oltre il tempo che viviamo quindi quello che si dice normalmente un racconto di fantascienza adesso però piace di più dire distopia ma quella è sempre io sono già un po' anziana quindi per me è sempre fantascienza insomma e quindi abbiamo questo capitano Lars Niemann che vive una giornata particolare diciamo per citare altro insomma molto particolare nella sua vita lui è coinvolto in una impresa veramente titanica la popolazione mondiale ha subito una non ben precisata catastrofe e adesso è a caccia di luoghi dove sia possibile riforestare e lo fa e questa ricerca viene condotta attraverso delle reforestation maps delle carte di riforestazione poi non voglio anticipare troppo però insomma è veramente un'avventura estrema quella che è chiamato a vivere l'umano Lars Niemann e Lars Niemann tra l'altro in questo racconto poi i lettori a volte come spesso succede quando si legge qualcosa il pensiero ti porta a qualcos'altro di lettura e sarà stato che Raffaella Romagnola in quest'ultima parte di questo libro Il Cedro del Libano propone la storia che ci ha appena detto ma mi ha ricordato molto i libri di Arto Pasilina perché Arto Pasilina straordinario scrittore Guardia Boschi Piccoli omicidi tra amici è uno dei libri più divertenti che abbiamo mai letto ebbene lui ci porta spesse volte a Rovaniemi e qui anche nel racconto di Raffaella Romagnolo ritroviamo ritroviamo questo luogo quindi c'è c'è questa questa aderenza geografica tra scrittori questo è anche molto bello c'è questo nord mitico insomma che torna molto molto mitico Raffaella Romagnolo autrice del libro Il Cedro del Libano ricordo pubblicato dalla casetrice Aboca per la collana Il Bosco degli scrittori vorrei anticipare tra l'altro che Raffaella Romagnolo sarà ospite al festival che sempre raccontiamo attraverso festival giovedì 3 agosto lo so che è molto molto anticipato ma bisogna prenotare quindi l'anticipo è sempre molto bello giovedì 3 agosto racconterà Il Cedro del Libano insieme con Paola Bigato e sarà un racconto un intrattenimento fitoterapico ce lo puoi raccontare brevemente? Sì è una specie adesso usiamo delle parole che vanno di moda è uno spin off del libro in realtà è una è un intrattenimento diciamo così quindi è una una lettura scenica direbbero magari gli attori in cui portiamo al pubblico alcune parti di questo libro ma intervallata da alcune riflessioni che nel libro non sono entrate perché sono a latere ma che mi pare possano illuminare un pochino questo tempo dominato spesso dall'ecoansia quindi che possa aiutarci un pochino ad affrontare in maniera più più consapevole ciò che effettivamente stiamo vivendo Prima di salutarci Raffaella Romagnolo invece qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Allora allora in questo momento veramente sto ho letture ampie nel senso che mi sto muovendo su un po' tanti tavoli diciamo che dal punto di vista della di narrativa quello che è proprio sul mio tavolino in questo momento è una rilettura per me ed è il lettore di Bernard Schlink che è un autore che se non conoscete vi consiglio assolutamente questo è un best seller di molti anni fa che è diventato anche un colossal poi hollywoodiano premiato anche con l'Oscar eccetera ed è veramente una lettura importante perché è un libro che affronta attraverso la penna proprio di un grande scrittore però un momento di presa di coscienza di quello che è stato il passato nazista da parte delle generazioni più giovani tedesche insomma molto 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 bello Bernard Schlink il libro che lei ha ricordato il lettore è pubblicato da Neri Pozza intanto grazie davvero Raffaella Romagnola è anche stato appena ritradotto quindi è proprio infatti l'occasione è stata la ritraduzione per me di Chiara Uica la rilettura la traduzione a cura di Chiara Uica intanto grazie davvero Raffaella Romagnola e buona serata grazie grazie Livio e grazie anche a chi ha avuto la pazienza di ascoltarci grazie a tutti